La Chiesa di Santa Maria di Gesù è sicuramente un simbolo religioso, ma è uno scrigno importante e culturale che racchiude l'identità della nostra città. Ricordiamo bene San Benedetto il Moro come patrone insieme a Santa Rosalia di Palermo. Oggi abbiamo fatto un lavoro eccezionale insieme alla sovrintendenza di Palermo che ringrazio. Abbiamo consegnato i lavori di recupero, catalogazione e messa in sicurezza di questa Chiesa. Attività prodromiche e propedeutiche proprio per il restauro che avverrà nei prossimi mesi. Sono dei lavori molto importanti perché è una prima fase che riguarda l'individuazione di tutti i detriti e i reperti che sono all'interno della Chiesa che sono caduti sia per il crollo e la volta che danneggiati dal fuoco. Questo intervento sarà un vero e proprio lavoro di stratificazione, di ricerca stratigrafica dove ci sarà sia lo smaltimento dei detriti ovviamente che non serviranno che l'individuazione di tutti quei reperti marmorei che potremo riandare poi con un intervento mirato a riallestire tutti gli apparati della Chiesa. La festa di Sant'Agata si conferma un eccezionale momento di aggregazione e di richiamo turistico, uno di quegli eventi che intendiamo valorizzare sempre più assieme alle altre uniche peculiarità della Sicilia che presenteremo lunedì mattina all'ambito di Milano. E' proprio la classifica diffusa stamattina dalla demoscopica che colloca la Sicilia a secondo posto tra le destinazioni turistiche con la migliore reputazione, con un balzo in avanti di ben 5 posizioni rispetto all'anno precedente. Ci invoglia a proseguire il percorso avviato perché il turismo è un settore strategico per la nostra economia. Abbiamo intenzionato di puntare sempre di più sulla destagionalizzazione promuovendo la Sicilia e i suoi eventi anche in periodi diversi dai classici mesi estivi. e la festa di Sant'Agata è uno di questi. L'ho detto il Presidente della Regione Siciliana è nato Schifani prendendo parte alle celebrazioni per la festa di Sant'Agata Palazzo degli Elefanti. Sede del Comune ospita il Sindaco Enrico Trantino e alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgio Meloni. Presente nell'evento anche gli assessori regionali Elvira Amata, Elena Pagana e Roberto Scarpinato. Il governatore siciliano ha assistito allo spettacolo Aspettando la Patrona, allestito in Piazza Duomo con il tradizionale show piccolo e tecnico il concerto e l'orchestra del conservatore Vincenzo Pellini di Catania in collaborazione con il coro lirico siciliano. Nella striscia di Gaza oltre 27.000 vittime palestinesi ancora nessun accordo per una tregua tra Hamas e Israele. Bombardamento missilistico ucraino all'Isichansk, città occupata nella regione di Lugansk nell'Ucraina orientale. Nessun commento da parte di Kiev. Approvato dai Verdi il programma per le prossime elezioni europee di giugno. Priorità al Green Deal e al rafforzamento dello Stato di diritto dell'Unione Europea. A San Giovanni a Teduccio, quartiere periferico di Napoli, due palazzi con i celebri murales dell'artista Iorit saranno demoliti. I paramedici portano i morti e i feriti in un ospedale di Gaza domenica dopo l'ultimo di una serie di micidiali attacchi israeliani contro Deir al-Bala. Almeno sette persone sono state uccise e altre 15 ferite quando un attacco ha colpito un edificio della città. Le incursioni israeliane a Gaza sembrano intensificarsi, in particolare nella città meridionale di Rafah dove si rifugia un milione di spollati. Tra le crescenti divisioni in seno al governo israeliano sulla guerra, il segretario di Stato americano Anthony Blinken è nella regione per il suo quinto viaggio da quando il gruppo militante Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre. La diplomazia ha il lavoro su più fronti. Il ministro degli esteri francese Stéphane Sejourné si è recato in Egitto dove ha dichiarato che la Francia è a favore di un cessate il fuoco e il ritorno dell'autorità palestinese a Gaza. La legittimità dovrò in favore di un cessare il fuoco, ma dovremmo preparare il ritorno dell'autorità palestiniana a Gaza con una governanza renouvela. La legittimità dovrò anche dal respecto effettivo delle pregative, soprattutto per gli israeliani. La legittimità dovrò anche dal risultato di ottenere dei risultati tangibili per la sicurezza e il quotidiano dei palestiniani e per la riconoscenza dei loro diritti politici. Al momento l'accento è posto sull'aumento degli aiuti umanitari che possono entrare a Gaza. Le Nazioni Unite e la Croce Rossa Internazionale parlano di un'immane crisi umanitaria che colpisce più di 2 milioni di persone. Alta tensione in Medio Oriente. Forze britanniche e statunitense hanno lanciato nella notte tra sabato e domenica una nuova serie di attacchi contro obiettivi ecuti in Yemen. Secondo il centro di comando dell'esercito di Washington sono stati distrutti almeno 7 missili antiaerei e sono stati colpiti almeno 30 obiettivi in 13 diverse località. Sabato il Ministero degli Esteri iracheno ha convocato il rappresentante dell'ambasciata statunitense per presentare una protesta formale per gli attacchi statunitensi avvenuti la notte precedente in risposta alla morte di tre militari nella base Torre 22 in Giordania. Il Pentagono ha affermato di aver colpito più di 85 obiettivi in Iraq e Siria. Secondo diverse valutazioni gli attacchi potrebbero aver causato più di 60 vittime in entrambi i paesi tra cui militanti e civili. L'Italia sarà al comando della missione europea nel Mar Rosso per garantire la sicurezza del commercio internazionale. Il Ministro della Difesa Crosetto ha annunciato che l'Unione Europea ha chiesto al nostro paese di fornire l'ammiraglio che guiderà la missione Apsides istituita per garantire la libera e sicura la navigazione delle navi nel Mar Rosso. Secondo il Ministro degli Esteri italiani sarà una missione difensiva non solo di accompagnamento. Non ci saranno attacchi via terra contro gli UTI assicurato il capo della Diplomazia Europea Borrell. È salito a 28 il bilancio delle vittime del bombardamento missilistico ucraino di sabato 3 febbraio su un edificio a Lisychansk città occupata nella regione separatista filorussa di Lugansk nell'Ucraina orientale. A renderlo noto il Ministero russo delle emergenze tra il silenzio di Kiev che non ha al momento commentato né confermato l'attacco. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha affermato che Mosca si aspetta una condanna internazionale dell'attacco. Zakharova ha poi aggiunto che l'Ucraina ha utilizzato il sistema missilistico di artiglieria ad alta mobilità HIMARS fornito dagli Stati Uniti. Nel frattempo il Ministero della Difesa russo ha diffuso un video di un elicottero da combattimento che lancia razzi contro un bersaglio in una località sconosciuta in Ucraina. Il reportage di Euronews a Budua comune del Montenegro nella Dalmazia meridionale sulla costa adriatica dove ogni domenica la Chiesa della Santissima Trinità ospita fedeli ucraini e russi insieme per chiedere la fine del conflitto in Ucraina. In Montenegro su circa 600.000 abitanti quasi 100.000 sono ucraini e russi. Stando alle stime preliminari del censimento dello scorso anno il numero è aumentato notevolmente proprio dall'inizio della guerra in Ucraina. La cultura ortodossa insieme al clima mediterraneo hanno reso il Montenegro una scelta sia per i russi che per gli ucraini che qui vivono in pace nonostante l'ostilità. Non abbiamo alcuni problemi e loro anche comprendono e noi comprendono la situazione e perché siamo qui. Quindi penso che l'environment è proprio amiciziale. I risultati finali del censimento potrebbero confermare i dati sul Montenegro di essere il paese con il maggior numero di migranti pro capite provenienti da Russia e Ucraina. I verdi europei si mettono al lavoro. Sabato a Leone il congresso del partito ha nominato la tedesca Reintec e l'olandese Icaut a capo della lista per le elezioni europee di giugno. I verdi sono convinti che il rafforzamento del Green Deal europeo rimanga l'unica risposta alle sfide internazionali ed europee. China is doing very clear industrial policies. Look at how they deal with the electric car. America United States investono a lot of money in green innovation. So the green race is on and Europe was at the forefront. Now stopping pausing resting moratorium whatsoever will really make it worse for our industry and I think that's going to be the message to our industry but also to the people. If you want a future where you have future jobs I Verdi ritengono inoltre che una transizione climatica più equa sia la migliore soluzione all'ondata di estrema destra prevista dai sondaggi. Il 21 dicembre scorso la Facoltà di Lettere dell'Università Carlo di Praga ha subito un attacco senza precedenti da parte di un uomo armato che ha ucciso 14 persone ne ha ferite altre 25 e poi si è suicidato. La sparatoria di massa ha scosso l'intera società e ha reso necessaria una profonda revisione delle misure di sicurezza. L'Ateneo fondato quasi 660 anni fa è uno dei primi e più stimati istituti di istruzione superiore d'Europa. Per questo motivo le misure di sicurezza devono essere flessibili in modo da poter essere adattate ai diversi dipartimenti. l'Ateneo è scoperto in un momento rilasciare sms rilasciare a telefono in alcune locazioni e spostare i scenari che spostano evacuazioni nebo lockdown. Questo significa vedere tutti che sono in alcune stesse in alcune instruzioni come si devono in alcune situazioni di stati ma il ministro di Psello Gidwade con Sencervena esiste l'Auronews Braha. Lo chiamavano Bronx ma non è un quartiere di New York è alla periferia di Napoli un quartiere popolare ed operaio dove alla fine degli anni 80 sono stati costruiti in tutta fretta e malissimo due grandi palazzi di edilizia popolare nell'emergenza post terremoto. Dopo 40 anni di attesa e 7 anni di lotta per la realizzazione di abitazioni dignitose finalmente oggi gli abitanti del quartiere possono festeggiare i palazzi fattiscenti verranno sostituiti da palazzine nuove con aree verdi orti urbani e campi sportivi. Abbiamo iniziato a porre diciamo un problema vero concreto alle istituzioni di dire a San Giovanni a Teduccio ci sono 360 nuclei familiari che hanno diritto ad avere una casa una casa però dignitosa ma l'abbattimento comporterà anche la possibile perdita del murales di Yorit street artist conosciuto in tutto il mondo che ha portato bellezza e identità in un posto dimenticato da tutti anche grazie al più grande murales di Maradona al mondo io sono sorpreso dall'incredibile affetto che le persone mi hanno dimostrato e hanno dimostrato soprattutto non nei miei confronti ma nei confronti dell'opera soprattutto di Diego sono stato sommerso da messaggi chiamate non posso camminare che qualcuno mi dice di fare qualcosa per salvare Diego noi faremo in modo che la demolizione di questa parete venga fatta in modo controllato in modo da poter recuperare tutte le parti che possono essere ricomposte in un luogo prossimo naturalmente a questo quartiere preservare la bellezza è importante almeno quanto avere una casa decente in cui vivere e sostituire il brutto con il bello è nell'interesse di tutti io credo fortemente nel valore della cultura dell'arte dell'aggregazione del sociale quello che poi ci rende davvero umani quindi adesso che abbiamo vinto questa battaglia per le case bisogna fare una battaglia per dire che dopo le case dopo il lavoro dopo il cibo noi siamo esseri umani abbiamo bisogno anche di arte di cultura questi due palazzi alle mie spalle simbolo del degrado del quartiere San Giovanni a Teduccio alla periferia est di Napoli verranno abbattuti per fare posto a costruzioni dignitose adatte alla dignità delle persone che adesso ci vivono e che da anni combattono per dare bellezza al loro quartiere Luca Palamara per Aero News Napoli a presto 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 Grazie.